Il segno al passaggio tra l'età del cucciolo e quello dell'adulto e quindi un momento importante e un po' imprevedibile perché sapere esattamente quando arriverà il primo calore non è così semplice. Diciamo che genericamente avviene tra i 6 e i 16 mesi a seconda della tipologia e dura dalle 2 alle 3 settimane. Per quanto nei modi può essere piuttosto diverso e insolito perché talvolta ha pochissime perdite, talvolta ha molte perdite, talvolta ha anche un po' puzzolenti. Ma non succede nulla, sarà così il primo o dopo, da lì in poi, andrà a regolarizzarsi e all'incirca ogni 6 mesi ritroveremo di nuovo per terra delle piccole goccioline di sangue che ci dicono che siamo attrate in calore di nuovo. Bene, e ora che abbiamo la canina in calore come facciamo a gestirla al meglio? Beh, allora partiamo da quello che è il problema principale per i proprietari che hanno cane e femmine in calore, ovviamente in casa, ossia quella della gestione dello sporco, delle macchie di sangue. In questo caso hai due possibilità. La prima, quella di decidere di battezzare una o due stanze, renderle sangue free, nel senso che tagli i tappeti, proteggi i divani, proteggi le poltrone, proteggi anche la cuccia del cane, cioè fai in modo che sia tutto lavabile. Quindi ti conviene usare un piccolo strato di plastica sormontato con un tessuto tipo cottone facilmente lavabile e possibilmente scuro, di modo che se anche ti scappa una qualche gocciolina in più, bene o male venga tutto pulito e nascosto. E ovviamente il tuo migliore amico diventerà lo spazzettone. Lo spazzettone è acqua fredda e sapone, perché il modo migliore per pulire il sangue è con l'acqua fredda. Oppure, la seconda versione, è quello di usare e scegliere di optare per le mutandine per cani. Le mutandine per cani normalmente sono dei tessuti assorbenti che permettono a di non perdere tutte le goccioline in giro. In questo caso ti servirà, uno, avere più di una mutandina, in modo da avere un buon reciclo per la pulizia, cioè quindi quando ne metti a lavare una hai già quell'altra pronta all'uso. Due, ti conviene, se ti piace questa opzione, cominciare ad abituare la tua cania prima, ok, del calore stesso. Quindi come se fosse un collare, una pettorina, cioè qualcosa a cui far abitudine già quando non ti serve. Questo perché? Perché già sarà abbastanza stressante il momento del calore in quanto tale, se poi deve avere addosso questa cosa che la costringe sempre, può diventare difficile per lei tollerare la presenza di questo elemento estruso e quindi intruso. E quindi lo facciamo, l'abituiamo prima. Una volta che poi abbiamo la mutandina addosso, dobbiamo stare attenti a due cose. Uno, tenere un alto livello di pulizia, pulizia della mutanda e pulizia dei tessuti, della pelle del cane, perché comunque andiamo a creare una zona di umidità molto forte dove non sarebbe così forte, perché sarebbe esposta all'aria. E quindi la pulizia diventa veramente importante per non incappare in problemi batterici, che ovviamente non vogliamo, ma neanche arrossamenti della pelle o comunque irritazioni. Infatti è necessario anche prevedere dei momenti mutanda free, ad esempio nelle passeggiate o durante il gioco, dove il cane può muoversi liberamente senza cose addosso. Un consiglio che molti utilizzano è quello di inserire all'interno delle mutande direttamente un assorbente per donna, in modo che invece di andare a cambiare direttamente la mutanda vai a cambiare quello prima, ok? Di cambiare la mutanda, quindi ti permette di avere una riduzione dei tempi di lavaggio. Se il tuo cane non mastica le mutande può essere una buona soluzione. Bene, a questo punto però dobbiamo anche calcolare che ci sono cani che non vivono in casa e quindi se il tuo cane vive fuori, il problema delle goccine per terra di sangue è l'ultimo delle cose che ti preoccupa. Quello invece che deve preoccupare è che cos'è avere un giardino a prova di muraglia cinese, cioè deve essere totalmente impenetrabile. Impenetrabile perché non hai idea di quello che un maschietto potrebbe inventarsi per riuscire a entrare nel giardino tuo. E quindi qua, qual è il consiglio che ti do? Quello di crearti un box di sicurezza, un a posto di quelli sei di metallo chiusi, veramente super 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 sicuri, dove poter lasciare il cane quando voi non siete presenti. Anche in questo caso sarà necessario un'abituazione precedente, quindi si inizia fin da subito a insegnare al cane che ogni tanto si sta dentro e va bene così. Questo sempre e nuovamente per evitare situazioni di stress legate al momento che andrebbero ad aggravare lo stress già presente. Già, perché dobbiamo anche considerare che alcuni cani cambiano un po' di carattere in questo periodo. Alcuni diventano molto più coccolose, altri diventano più intraprendenti, altri ancora invece tendono a diventare magari un pochino aggressive. Talvolta si possono verificare anche piccole incontinenze. Ma tutto questo passa col passare del ciclo. Altro suggerimento che ti voglio dare per la parte esterna, ma questa volta riferito alla passeggiata, è quello di evitare di lasciare la cagna libera. Anche se è bravo e normalmente non si allontana, in quel momento potrebbe vedere un bel maschietto che gli fa prendere la voglia di prendere il via. O al contrario, lei è bravina, rimane lì ma è lui che la raggiunge e corre più veloce di te. E quindi per evitare inconvenienti è meglio tenerla legata e vicina. Sempre per lo stesso motivo evita i posti in cui ci sono molti cani e molti cani che vengono lasciati liberi. E' meglio in questo caso optare per giri un po' più umani, un po' più tranquilli o al contrario completamente isolati, in modo da ridurre al minimo gli incidenti e gli imprevisti. Altra cosa a cui bisogna stare attenti è non tanto quello che succede nel calore, ma quello che succede nel post calore, soprattutto a un paio di mesi. Perché se noi dovessimo vedere il cane un po' più letargico, che mangia un po' poco, che ha magari vomito, diarrea, insomma se dovessimo vedere che c'è qualcosa che non va, è importante parlarne subito col veterinario, andare subito a fare un controllo e riferirgli che ha avuto il calore da poco. Questo potrebbe salvare la vita al vostro cane, perché ci sono purtroppo infezioni importanti come la piometra, che non possiamo sottovalutare. Per questo, e per altri motivi che adesso ti vado a spiegare subito, ti consiglio un'ultima cosa, che è quello di tenere il diario dei calori. Quindi dove prendi nota di quando è arrivato il calore e quando è andato via. Questo perché uno, dopo due, dopo tre, dopo quattro cicli, riuscirai a vedere la prevedibilità, quindi a sapere quando aspettarti il prossimo calore. E questo ti aiuta da una parte a non prenotare le vacanze proprio in quei giorni lì. E in secondo luogo, proprio come riscontro per il tuo veterinario. Nel caso ci fossero problematiche, tu sai esattamente quando è andato in calore l'ultima volta. Bene, detto questo, io ho concluso, spero di esserti stata utile. Se sì, pollicioni in su, se ci sono domande, commenti. E del resto ci vediamo la prossima volta.